Un'altra medaglia per l'atleta retina Beatrice Coradeschi, classe 2007 originaria di Civitella in Val di Chiana, è riuscita ad aggiudicarsi un argento ai mondiali che si sono svolti in Corea del Sud a cui ha partecipato la nazionale italiana di Taekwondo. Sono stati 7.499 i punti totalizzati da Beatrice, appena 67 in meno della prima classificata atleta di casa. Tutta colpa, secondo gli esperti della disciplina del freestyle di Taekwondo, di un avvitamento non riuscito. Ma importa poco, è sicuramente giusto sorridere davanti ad una medaglia d'argento conquistata così. Beatrice poi, assieme a tutto il team Italia nella categoria Under 17, è salita sul gradino più alto del podio.